A Palazzo San Giacomo arriva il consigliere degli immigrati. Un cittadino extracomunitario regolarmente eletto rappresenterà la comunità degli immigrati nella sede della massima istituzione cittadina. Con una delibera di proposta al Consiglio è stato infatti approvato il regolamento che disciplina l'elezione di un cittadino extracomunitario per la partecipazione al Consiglio Comunale con diritto di parola. Non avrà dunque il nuovo consigliere potere di voto sui singoli provvedimenti che l'Assemblea di volta in volta discuterà e sui quali deciderà, ma potrà far conoscere il punto di vista degli immigrati su scelte che coinvolgono di fatto anche la comunità napoletana dei migranti. Approvato inoltre dalla Giunta Comunale anche un secondo regolamento con il quale si dà la possibilità di estendere il diritto di voto per i referendum consultivi ai cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, ai residenti cittadini dell'Unione e ai residenti extracomunitari. Prosegue il percorso di integrazione dei cittadini stranieri ma soprattutto prosegue anche il percorso di costruzione di una più robusta cittadinanza. Abbiamo leggi nazionali discutibili che producono vincoli talvolta impedimenti alla costruzione di percorsi di cittadinanza. Questa amministrazione che considera assolutamente un valore invece il contributo che viene dai cittadini stranieri e che considera una città assolutamente accogliente e solidale vuol fare un investimento importante attraverso la previsione del consigliere aggiunto eletto democraticamente dalle comunità di immigrati a cui dare un valore. Il valore che vogliamo assegnare a questa decisione è la partecipazione ai processi di formazione delle decisioni che riguardano le comunità di immigrati ma che riguardano più complessivamente la loro integrazione con la nostra città. Prosegue il percorso per un'alternativa democratica rispetto a un modello di democrazia escludente rispetto sia ai cittadini, rispetto ai migranti, rispetto ai giovani. In questo senso si muovono le due delibre di ieri che io ritengo molto importanti e mi sembra una norma di grandissima civiltà, una norma che interpreta il concetto di cittadinanza in una visione molto più democratica rispetto a quella che purtroppo è stata interpretata fino ai nostri giorni. I cittadini praticamente sostanzialmente di Napoli riteniamo che siano tutti coloro i quali stanno nel nostro territorio, che partecipano alla vita economica, sociale, culturale, i migranti. Abbiamo ritenuto che anche i migranti dovessero avere il diritto di partecipazione politica e quindi di avere il diritto di partecipare ai referendum consultivi.